Qual è il ruolo che gioca Infratel all'interno dell'ecosistema dell'innovazione? Infratel è la principale società pubblica che si occupa di infrastrutture digitali del paese consentendo la realizzazione di infrastruttura in particolare nelle aree del paese dove gli operatori privati hanno determinato di non investire risorse, e l'intervento pubblico di Infratel serve a colmare quel gap di connettività che abbiamo in aree del territorio italiano. E quanto il PNRR può supportare lo sviluppo della regione e del sistema paese? Il PNRR destina risorse molto significative alla componente relativa alla digitalizzazione e Infratel Italia è stato disegnato dal governo come soggetto attuatore degli interventi in materia di infrastrutture. Entro il 2026 avremo un'Italia completamente connessa, sia con connessioni fisse che connessioni mobili. È chiaro che l'infrastruttura digitale è la precondizione per lo sviluppo di percorsi di innovazione e occasioni come SMAO sono anche importanti per capire le intelligenze da far navigare attraverso le nostre reti.